Sono in arrivo per tutti i pendolari toscani i rimborsi dopo le nevicate delle scorse settimane. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale ai trasporti Luca Cecobao dopo aver raggiunto un accordo con Trenitalia che consente la distribuzione a tutti gli abbonati di un bonus straordinario relativo al mese di febbraio proprio per l'emergenza neve. E' stata una iniziativa doverosa detto Cecobao nei confronti soprattutto dei pendolari. Le forti nevicate hanno provocato rallentamenti e soppressioni che anche se programmate dal piano neve di Ferrovia dello State con l'obiettivo è stata un'iniziativa che ritengo doverosa detto Cecobao nei confronti dei pendolari. Le forti nevicate hanno provocato rallentamenti e soppressioni che anche se programmate dal piano neve di Ferrovia dello Stato con l'obiettivo di far circolare i treni in sicurezza hanno senza dubbio creato forti disagi tra i pendolari. Il bonus straordinario consisterà in una riduzione sul costo dell'abbonamento di aprile che nella maggior parte dei casi sarà applicata direttamente dalle biglietterie di Trenitalia.